Sicurezza, il cuore del lavoro. Il 1 maggio, CGL, CISL e Will scelgono Prato per la manifestazione nazionale. Susanna Camusso, segretaria generale CGL, Anna Maria Furlan, segretaria generale CISL, Carmelo Barbagallo, segretario generale Will, in Piazza Duomo per la festa delle lavoratrici e dei lavoratori. Partenza del corteo da Piazza Mercatale, 1 maggio 2018, Prato, sicurezza, il cuore del lavoro.